Un altro passo verso la crescita di Fratelli d'Italia dopo un appello lanciato lo scorso settembre per ampliare e allargare i nostri confini verso la costruzione di una seconda grande forza del campo del centrodestra alleata ma distinta della Lega con l'obiettivo di riportare al governo della nazione una coalizione che possa essere solida e condividere le scelte fondamentali. Qui chiaramente la presenza di un gruppo consigliare di Fratelli d'Italia nel comune di Palermo con l'ingresso di Francesco Scarpinato oggi ma prima di Mimmo Russo è per noi motivo di particolare vanto per l'importanza che Palermo ha per lo scacchiere siciliano nella realtà siciliana e a livello nazionale. I nomi ancora diciamo non chiaramente stiamo già lavorando sulle liste anche se insomma le liste non sono chiuse quindi molto presto per fare i nomi posso anticipare che la lista di Fratelli d'Italia sarà qui e negli altri quattro collegi italiani una lista molto forte che noi pensiamo davvero di poter rappresentare le prossime elezioni europee la sorpresa elettorale. Credo che il nostro percorso di coerenza di mantenimento della parola data di avere in questi mesi lavorato anche rispetto al governo senza pregiudizio ma votando quello che era compatibile con ciò per cui i cittadini ci avevano votato e avevano votato a maggioranza non votando quello che invece consideriamo dannoso per gli italiani. Penso che questa scelta stia pagando e che configuri oggi i Fratelli d'Italia come la forza politica più credibile e coerente che ci sia. Ho letto di una posizione di neutralità del presidente Musumeci che francamente non comprendo a meno che non sia dettata diciamo così da una difficoltà di mantenere compatta la maggioranza. In ogni caso io sarei stata più coraggiosa francamente al posto suo. È un elemento di chiarezza per i siciliani. Sanno che nelle prossime elezioni europee se vogliono votare a destra la scelta di votare a destra è la scelta di votare i Fratelli d'Italia. Il governo regionale è un governo che sicuramente ha trovato una realtà molto complessa sulla quale cominciare a lavorare e sicuramente ha avuto bisogno di molto tempo per cercare almeno di riorganizzare la macchina. Questo è un lavoro sotterraneo chiaramente abbastanza complesso da fare. Credo che ci siano dei lati positivi nell'attività del governo. Il tema della spesa dei fondi europei per esempio segnala una discontinuità con il passato. Credo che si possano fare ancora più e meglio e sicuramente Fratelli d'Italia sta dando una mano. È per esempio nostra la proposta che io considero molto importante di sostenere gli studenti fuori sede, i siciliani costretti ad allontanarsi per le cure sanitarie, per avere un contributo da parte dell'Arts, da parte della regione per poter calmierare le spese. Quindi stiamo cercando di fare delle proposte il più possibile concrete perché la Sicilia ha bisogno di risposte concrete, di poca filosofia e di molti fatti. Tornando all'Europa si è parlato di un'interruzione con Raffaele Lombardo. No, io non ho un'interruzione con Raffaele Lombardo e noi non abbiamo a livello nazionale accordi con questa realtà. Poi a livello locale i nostri referenti dialogano con tutti e sono chiaramente autorizzati a dialogare con tutti gli esponenti regionali perché come si sa insomma siamo interessati ad allargare il più possibile i nostri confini ma non credo si possa parlare di un accordo nazionale. Che ne dica il genio del nostro Ministro delle Infrastrutture? Il tema della TAV non è avere un buco per arrivare a Lione. La TAV è quel pezzetto di alta velocità che manca per collegare l'Italia a tutta la rete dell'intermodalità europea. Cioè significa che se è vero come è vero che l'Unione Europea ha deciso di spostare entro il 2050 il 50% del commercio su alta velocità, se noi non costruiamo quel pezzetto che manca l'Italia rimarrà isolata dal tutto il commercio europeo. Significa finire nel terzo mondo. Allora noi che ce le siamo inventate le grandi opere, duemila anni fa costruivamo i ponti diciamo in dieci giorni per attraversare il Reno, alcuni saranno ancora in piedi e qui non si riesce per esempio a lavorare, se ne parla da decenni del ponte sullo stretto di Messina. Io penso che invece il tema delle infrastrutture sia un grandissimo tema. Se lei guarda il caso di Termini Merese, a Termini Merese noi viviamo la situazione che stiamo vivendo perché c'era un'assenza di infrastrutture commerciali e perché quello che veniva prodotto nella fabbrica di Termini Merese aveva difficoltà ad arrivare dove doveva arrivare. Senza infrastrutture noi siamo spacciati, senza infrastrutture abbiamo solo cattedrali nel deserto. Il redio di cittadinanza è una grande bufala, è una grande bufala sui numeri della quale gli italiani rischiano di rendersi conto troppo tardi, cioè dopo che avranno votato per le elezioni europee. Ma basti ricordare che erano partiti da 6 milioni di tessere stampate, quindi di presunti percettori di redio di cittadinanza, adesso parlano 2 milioni e 200 mila persone. Ci sono, secondo me, 10 milioni di italiani che ritengono di poter prendere il redio di cittadinanza, si accorgeranno troppo tardi che quei soldi non arriveranno. Dopodiché io penso che sia sbagliato su un piano culturale perché culturalmente non puoi mettere sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo. Lo Stato si deve occupare di assistenza per quelli che non possono lavorare, bambini piccoli, quindi i genitori che li accudiscono, i disabili, gli anziani, ma per gli altri è il lavoro di cittadinanza che va portato. Il redio di cittadinanza non lo fa, tant'è che Di Maio dice io ti do il redio di cittadinanza per un anno e poi il lavoro lo devi accettare ovunque. Che significa? Significa che fra un anno un siciliano che ha preso il redio di cittadinanza gli diranno che può andare a lavorare a Brescia, ma se si trattava di andarsene dalla Sicilia e di andare a lavorare a Brescia, i siciliani lo hanno già fatto. Grazie a tutti.